Oh boys, comunque fa veramente troppo freddo, meno male che c'ho il pigiamone I pigiama sono per i deboli, noi dormiamo così, col giacchetto di pelle Let's go! Belli boys, bentornati sul canale, cazzo Oggi stiamo qua per vedere un deck che ne ha viste di tutti i colori Questo mazzo ha anche altre varianti ma oggi ho voluto portarvi questa Stavo mettendo a posto le carte nello scatolone, mi sono scappate fuori queste carte e ho detto Cazzo, facciamoci il mazzo Ho visto che comunque le carte non costano un cazzo E quindi oggi stiamo qui in un nuovo episodio di Deck Criminali I mazzi budget per tornare a giocare con i vostri amici prima di andare al local a prendere il cazzo Let's go! Allora boys, oggi vi faccio vedere side Dove S sta per Shadow, I sta per Invoked D sta per Droga, cioè Dogmatica E E sta per Eldritch Stavo mettendo a posto le carte, come vi ho detto prima E mi è scappato fuori Eldritch Ho detto, ma sai che c'è? Sai che c'è quel brividino di Eldritch ogni tanto, no? Che torna sulla schiena e dici Cazzo, voglio giocare Eldritch Mando cazzo vado con Eldritch Allora sì Easy Prendi Invoked Prendi Quelle tre carte Shadow Le infili dentro Ci butti giù Dogmatica Sti cazzo Il mazzo funziona E il mazzo funziona veramente Anche nel 2024 Ma ovviamente Prima di andare a vedere il mazzo Le solite frasi del cazzo da influencer Iscrivetevi e lasciate un like E andatemi a seguire su Instagram Cazzo Oh, oh, oh Non ti permettere più di non mettermi a fuoco Cazzo pezzo di plastica ti distruggo Andatemi a seguire su Instagram Cazzo Mi trovate come Bastardo7 Ormai lo sapete Fatelo ragazzi Fatelo Detto questo però Io passerei Alla deck profile Let's go Boys Eccoci qua Guardate quanto è bello Aleister La normal summon più forte di Yu-Gi-Oh Mamma mia signori Che cartaccia Che cartaccia Fortissimo Fortissimo Allora Easy Partiamo con questa deck profile 3x di Aleister Fortissimo Che cazzo Cioè vi devo spiegare anche cosa fa questa carta? No 2x di invocazione Ovviamente Belle pimpate perché c'è invocazione Aleister Molto bello 3x di collasso magico Incredibile E questo è il reparto invoked Fortissimo Solidissimo Altissimo Purissimo Passiamo all'engine dogmatica Una copia di Ecclesia Il grande Maximus Fiordaleso E punizione 3x di Nadir E stiamo a posto Fortissime Cioè Fortissime Che cosa cazzo volete? Cioè Assurdo E già qui E già qui abbiamo vinto E già qui abbiamo vinto Fortissimo Bellissimo Bellissimo Questo mazzo è veramente bello Passiamo poi al reparto quello cazzuto Il reparto quello vero Eldritch 2 copie Perché 3 Veramente se lo dammo nei denti 3x di Terra Maledetta 3x di Sanguigno Fortissimo E attenzione Attenzione La spicy touch del bash No Non è una spicy touch Dovete fare così e basta 3x di Aquero E 2x di Conquistator Incredibile I giocatori esperti Avranno già capito Se non l'avete capito Ve lo spiego io Il meta di adesso È Se mi spacchi una carta Gioco Quindi evitiamo di spaccare Determinate carte E cerchiamo di bandire Le risorse al cimitero Quindi Ho preferito semplicemente Giocare il 3x di Aquero Perché va a bandire Quella carta al cimitero Che comunque Da molto fastidio Passiamo poi Al repartino Consistenza 3x di Prosperity L'hanno ristampata Non mi ricordo manco più Quanto sta Ma comunque sta poco E una copia di terra Formare Così vediamo prima Collasso Magico Tanto Se volete giocare questo mazzo Sappiate Che la leggenda è vera Se vi fanno Ash Blossom Su Collasso Magico Ci avete Aleister in mano E se vi fanno Ash Blossom Su Aleister Ci avete Invocazione in mano Questa regà È la regola Base Del mazzo Una copia di Colled Perché le Antrap Comunque ci fanno sempre male Passiamo poi Le Antrap Perché comunque Le dobbiamo giocare 3x di Ash E 3x di Impermanence Ovviamente Sono quelle più versatile Quindi le giochiamo E andiamo a chiudere il mazzo Con l'ultima carta Ovvero Scisma Questa ci serve Per fare Winda Nel turno dell'op E questo boys Era il main Bene boys Passiamo all'extra deck Due copie Di Meciabba Fortissimo Una copia di Purgatrio E una copia di Augdeis Come cazzo si chiama Augoedeis Augoedeis Capito? Una copia di questo Una copia di Apcallone Ci serve per prendere Scisma E una copia di Winda Che andiamo a fare Con Scisma Passiamo poi Ai target di Dogmatica Una copia di Malong Veramente forte Io questo lo gioco pure Sul Labyrinth Quando va al cimitero Rimbalza Una carta scoperta Dell'op E in questo meta Dove Fire King Probabilmente dominerà E' meglio Rimbalzare le carte Piuttosto che Distruggerle Una copia di Garura Fortissimo Ci peschiamo una carta E poi Due per di Entis Fortissimo Di base La carta che costa più di tutti È Garura E chiudiamo Il reparto Dogmatica Con una copia di Titaniclad Ovviamente lui Ci va a prendere Fior Daliso In end Passiamo poi Al resto delle carte Una copia di Al Mirage E una copia di Gardena Sicuro Lui è veramente sicuro Ovviamente Normal Summon Aleister Prende Invocazione Diventa Al Mirage Al Mirage diventa Gardena Sicuro E poi si va giù Di Invocazione E entra Meciabba Chiudiamo il mazzo Con le ultime due carte Una copia di Lina E una copia di Gustavo Il Cannone Questo volendo Lo potete sostituire Con un qualsiasi altro Link 2 generico L'ho voluto mettere Perché comunque Se viene distrutto Possiamo andare a prendere Ecclesia Che magari non abbiamo visto E ci serve soprattutto Perché mandiamo al cimitero I mostri Eldritch Perché sono luce E questo boys Era l'extra deck Bene boys Passiamo alla side Come vi ho detto Da adesso in poi Nelle deck profile Che metto Ci metterò anche la side Questo per darvi Un attimo Un'idea di Come farla E magari prendere spunto Ovviamente Tre perdi Everymerchad Fortissimo Sparecchia tutto Non ce n'è per nessuno Tre perdi Corvo DD Lo sapete È l'uccello Che vogliamo sempre Avere in mano Questo uscito Comune Dall'ultimo OTS Sta all'incirca 2 euro l'uno Quindi prendetelo adesso Perché sicuramente Salirà Tre perdi Padrone dei teschi Questo va a spegnere Tutte quelle carte Che partono dal cimitero Quindi contro Fire King È assurdo Tre perdi Droll E alla fine Solite cose Due perdi Ciclone cosmico E Un fulmine Tempesta In alternativa Potete metterci Spolverino Se non ce l'avete O il terzo Ciclone cosmico Ovviamente La side Di side È budget Quindi Di base Ve la potete fare Tranquillamente Hanno ristampato tutto Bene boys Per il video di oggi È tutto Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Per il supporto E iscrivetevi al canale Cazzo E Addirittura Potete fare una cosa Attivare la campanella Delle notifiche Cazzo Attivatela Così vi arrivano le notifiche C'è assurdo E ovviamente Andatemi a seguire su Instagram Lo sapete Mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi Fatelo E detto questo Noi si becchiamo Al prossimo video Let's go